Arrestate due persone ad Avezzano, entrambi appartengono alla comunità Rom. Auguri di Natale del Vescovo, tra poco leggeremo il messaggio di Monsignor Pietro Santoro. L'insufficienza respiratoria dall'ospedale a domicilio, importante convegno ad Avezzano. Il cuore di cioccolato di Teleton si potrà acquistare domani in più di 3000 piazze. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Nella serata di giovedì scorso, il personale del commissariato di Avezzano ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal procuratore della Repubblica di Avezzano nei confronti di una 44enne e di una 38enne, entrambi appartenenti alla locale comunità Rom. I provvedimenti restrittivi sono stati emanati a seguito dello svolgimento di una laboriosa attività investigativa, supportata da riscontri probatori, che hanno permesso di assicurare alla giustizia gli autori di quei reati contro il patrimonio che destano notevole allarme sociale nel caso di specie, furti, rapine e estorsioni. Nella stessa serata, gli agenti hanno proceduto anche all'arresto di una giovane ventenne già destinataria del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai suoi familiari in quanto responsabile di reati in ambito familiare. Nello specifico, la ragazza, violando le prescrizioni della misura restrittiva a cui era sottoposta, è stata sorpresa nella flagranza di reato mentre offendeva, minacciava e strattonava un suo congiunto che nel frattempo era riuscito a richiedere l'intervento della volante attraverso il numero di emergenza 113. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata accompagnata presso il carcere femminile di Teramo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E con le feste di Natale alle porte, il Vescovo De Marsi Monsignor Pietro Santoro ha inviato un messaggio augurale che recita così Buon Natale, amici, Buon Natale! Con questo semplice augurio desidero salutarvi sapendo che tutti, veramente tutti, siamo accolti da Cristo Dio incarnato per la nostra salvezza ma all'augurio del cuore si sovrappone una domanda una domanda antica e sempre nuova resa più acuta da una cultura che tutti respiriamo e di cui tutti siamo costruttori e vittime una cultura che definisco di smemoratezza smemoratezza sulla storia che ci ha generato alla fede smemoratezza sul nostro destino di uomini e di credenti allora non c'è da meravigliarsi se questa smemoratezza porta tanti a preparare il Natale come festa del relativismo trionfante occasione di gesti e di parole che indicano fuga e lontananza dal mistero e la domanda è questa qual è il segreto del Natale? capire questo segreto non è facile è solo per quanti riescono a scoprire che il Natale non è solo una data del calendario ma è una verità la più grande verità che Dio annuncia e comunica al mondo è accaduto così anche all'inizio mentre Roma dispiegava la propria potenza e Cesare Augusto mobilitava la terra intera per il censimento mentre l'intera storia di quel tempo si snodava secondo una logica imperiale un'altra storia segreta e ignota le folle e i palazzi veniva disvelata a pochi a un piccolo gruppo di pastori chiamati a diventare testimoni di un evento incredibile alla ragione Dio assume la nostra condizione umana per farci avere parte della sua vita divina evento immenso evento sconvolgente forse può far sorridere coloro che hanno censurato Dio dalla loro esistenza forse può far sogghignare coloro che hanno scelto di seppellire Dio sotto la coltre dell'indifferenza forse può essere scippato da quanti lo impacchettano nel chiasso e nella confusione diritti all'insegna dell'iquidità culturale forse ma non può non deve essere svuotato da quanti sono chiamati a custodire a trasmettere l'evento nella sua grandezza ed essenzialità e ci vuole il silenzio del cuore per custodire e ci vuole un colpo d'ala per trasmettere il colpo d'ala che solo l'amore può imprimere già l'amore parola ormai mercificata parola ormai stritolata ma parola che ricondotta la sua profondità ci dice che nel Natale siamo stati raggiunti dall'amore di Dio che questo amore ci sorregge nelle nostre solitudini e nei nostri smarrimenti e che questo amore è sempre il fermento vivo per una società che non affondi con la pietra al collo delle proprie cattiverie e delle proprie deviazioni è un mistero d'amore il Natale perché Dio diventa un volto da mare affinché ogni volto sia amato nel bambino di Betlem Dio assume un volto affinché ogni persona sia per noi un volto questa è la chiave che ha costruito la civiltà e questa è la chiave affinché la civiltà non scompaia questo è il messaggio di auguri del Vescovo Monsignor Pietro Santoro e l'1 di 16 dicembre scorso si è svolto nella sala Exarsa di Avezzano un interessantissimo convegno intitolato l'insufficienza respiratoria dall'ospedale a domicilio e riproponiamo il servizio su questo delicato argomento vediamo migliorare l'assistenza a domicilio dei malati neurologici tramite una maggiore integrazione tra ospedale e territorio è stato l'obiettivo del convegno che si è svolto oggi a Avezzano nella sala Exarsa per iniziativa del reparto di neurologia e di quello di rianimazione del presidio marsicano i lavori dal titolo l'insufficienza respiratoria dall'ospedale al domicilio che si sono tenuti nella sala conferenza dell'Arsa sono stati organizzati dalla professoressa Simona Sacco direttore di neurologia e dal dottor Angelo Blasetti direttore della rianimazione al convegno erano presenti tra gli altri le coordinatrici della Horizon Service Cesidia Carusi e Teresa Santellocco la cooperativa che con i suoi infermieri cura l'assistenza a domicilio dei pazienti neurologici che hanno bisogno del supporto della ventilazione meccanica e che svolgono un ruolo importante anche nel coinvolgimento attivo dei congiunti più vicini al malato il focus medico di oggi è stato incentrato sulla problematica dell'assistenza a casa di pazienti affetti da alcune malattie neurologiche soprattutto SLA sclerosi laterale amiotrofica nella Marsica attualmente sono 15 i pazienti seguiti dopo l'adegenza in ospedale che oscilla da alcuni giorni a mesi il paziente viene seguito a domicilio ed in questa fase diventa indispensabile il ricorso alla ventilazione meccanica il ruolo degli infermieri diventa sempre più importante nella gestione di questo ausilio sanitario e c'è quindi la necessità di accrescere le competenze degli operatori impegnati accanto a questa esigenza direttamente legata alla formazione del personale infermieristico si pone con forza la necessità di rendere sempre più stretta la sinergia tra operatori che agiscono in ambiti diversi l'attività dell'ospedale e quella del territorio non vanno visti come compartimento stagni dichiara la professoressa Sacco ma devono viaggiare con unità di intenti e sintonia al convegno hanno preso parte circa 100 operatori dai diversi profili professionali nel corso dell'incontro abbiamo rivolto alcune domande al dottor Angelo Blasetti primario di rianimazione alla dottoressa Simona Sacco direttore di neurologia e al dottor Virardino Orlandi dirigente medico di neurologia il dottor Blasetti è il responsabile della rianimazione dell'ospedale di Avezzano un ruolo fondamentale per quanto riguarda il salvataggio e salvare la vita delle persone in generale sì ruolo ovviamente importante ma che deve essere condiviso con altri specialisti e in particolare voglio dire mi riferisco parlando di molti specialisti al congresso che si tiene oggi che è un incontro multidisciplinare perché perché l'argomento è incentrato su pazienti che vengono trattati prima in terapia intensiva poi questo paziente con le patologie che sono trattate in fase acuta vengono diciamo così trasferiti in reparti adeggenza normale che sono la neurologia la medicina e ancora di più sono dei pazienti che spesso per le gravi insufficienze che hanno non riacquistano un'autonomia totale e a volte permane una insufficienza respiratoria vanno a domicilio con i ventilatori cosiddetti domiciliari ora è chiaro che per trattare questo paziente bisogna conoscere le problematiche che vanno condivise cioè chi poi tratta il paziente alla fine di questo trattamento a domicilio deve conoscere che cosa è successo in precedenza e quindi deve condividere le esperienze con gli altri operatori sanitari quindi ecco dov'è l'approccio multidisciplinare che se incentrato in questo senso effettivamente aumenta l'efficienza e l'efficacia dell'azione sanitaria in questo contesto mi sembra che all'ospedale di Avezzano state portando avanti un lavoro veramente greggio beh sì perché è aumentata la sensibilità a queste problematiche quindi vedo che i colleghi sempre più cercano di integrarsi con gli altri in modo che ci sia un discorso organico e non disgregato il paziente è unico va trattato nella sua unicità la dottoressa Sacco è direttora a questo punto si dice ormai della unità di neurologia dell'ospedale di Avezzano abbiamo già parlato con il dottor Blasetti abbiamo capito un po' la complessità del tema trattato oggi sì abbiamo organizzato molto volentieri questa giornata insieme con il dottor Blasetti per cercare di migliorare quella che è l'assistenza domiciliare ai pazienti che hanno insufficienza respiratoria perché da una parte c'è l'ospedale in cui ci siamo noi neurologi possiamo avvalerci del contributo degli pneumologi come il dottor Bianchi che abbiamo qui e dei rianimatori quindi il dottor Blasetti con tutta l'equip e poi da un lato c'è invece l'assistenza domiciliare che è fatta da persone che non hanno molto spesso la disponibilità di risorse che abbiamo noi è importante parlarsi è importante comunicarsi anche per dare una continuità assistenziale al paziente quindi l'idea di organizzare oggi questo incontro il modo da fornire a chi lavora a domicilio tutte le competenze necessarie per assistere al meglio i pazienti anche per conoscerci meglio imparare e dialogare di modo da poter essere pronti a gestire qualunque necessità l'insufficienza respiratoria potrebbe sembrare un aspetto secondario della medicina invece mi sembra che è fondamentale è molto importante noi neurologi siamo coinvolti perché l'insufficienza respiratoria oltre a poter essere dovuta alle classiche patologie polmonari forse quella che nell'immaginario di tutti è la polmonite in realtà può essere dovuta a tante patologie neurologiche ad esempio la sclerosi laterale amiotrofica che è una patologia neurologica nota è ahimè grave una delle principali cause di insufficienza respiratoria e ci sono diversi pazienti con questa patologia che sono seguiti a domicilio nel nostro territorio ma anche la miassenia altre patologie neuromuscolari o delle patologie centrali le aspettative per non dico della guarigione beh la guarigione in genere almeno nelle patologie neurologiche è molto difficile ci sono due gruppi di pazienti quelli in cui si inizia un'assistenza respiratoria che poi ai mesi protrae per tutta la durata della vita del paziente poi ci sono invece pazienti in cui la necessità di un aiuto da un punto di vista respiratorio è un qualcosa di temporaneo legati a fatti contestuali e una volta risolto il fatto contestuale il paziente può avere un miglioramento Dottor Blasetti per concludere ha messo in risalto l'importanza del lavoro di chi è portato davanti all'ospedale questo è fondamentale è uno dei punti di forza del nostro ospedale il fatto che ci sono tanti professionisti che si parlano che comunicano che dialogano che si confrontano e che hanno voglia di crescere e di far meglio per i pazienti la medicina è diventata molto complessa richiede competenze davvero articolate e singole persone difficili che possano avere sapere e poter fare tutto quello che si richiede per cui questo lavoro di equip oggi più che mai ha un valore imprescindibile per una corretta assistenza al paziente purtroppo non vi manca il lavoro assolutamente no anzi ne abbiamo fin troppo lo facciamo lo facciamo delle volte anche un po' andando oltre quello che ci compete tutto questo nell'interesse nel paziente spero poi anche che il sistema l'organizzazione capisca quali sono le esigenze e ci permetta di lavorare in un modo sempre più agevole e sempre più efficiente Dottor Orlandi penso che possiamo parlare con un po' più di tranquillità di questa vostra attività in quanto in passato ci sono stati grossi problemi sì senz'altro con più tranquillità anche se i problemi in parte rimangono ma diciamo siamo fiduciosi nella loro soluzione che poi significa riuscire a dare un'assistenza ai pazienti del nostro territorio che sia adeguata rispetto agli standard nazionali e non solo l'importanza di questi continui aggiornamenti diciamo che è fondamentale questa è un'attività che andrebbe ulteriormente implementata le variazioni che oggi la tecnologia e la medicina in sé ci riserva sono tali e tante che rimanere indietro significa di fatto non assistere in maniera adeguata ai pazienti per cui l'aggiornamento continuo diventa un elemento essenziale che passa anche attraverso eventi di questo tipo che riterrei particolarmente importanti in quanto interdisciplinare nel senso che hanno a che vedere con attività che apparentemente dentro e fuori l'ospedale si configurano come separate ma che spesso invece interagiscono anche lei mi ha risalto l'importanza della collaborazione tra i reparti mi sembra che sia fondamentale assolutamente sì in particolare in questo aspetto l'insufficienza respiratoria più o meno grave la collaborazione tra i reparti internistico-geriatrici di rianimazione e il nostro per quel che riguarda le nostre patologie specifiche fa sì che si risolvano situazioni anche estremamente critiche in pazienti che altrimenti non avrebbero modo di sopravvivere letteralmente superate la fase più critica diciamo che adesso aspettate un po' di maggiore attenzione da parte dei nuovi vertici diciamo di sì usiamo un eufemismo con discorso di maggiore attenzione certamente diciamo ci poniamo in maniera fiduciosa rispetto rispetto ai nuovi vertici è evidente che noi supportiamo una un numero di popolazione una quantità di popolazione estremamente elevata per i mezzi che spesso abbiamo a disposizione su questa discrepanza penso bisogna bisogna lavorare in termini di struttura in termini di personale e penso non ho un motivo di ritenere altrimenti che la nuova dirigenza si adopererà in tal senso credo sia l'auspicio un po' di tutti perché poi la salute è alla base di ogni persona assolutamente sì la salute è alla base di chiunque e questo dovrebbe diciamo eliminare dei percorsi che purtroppo a volte sono presenti e che riguardano più aspetti chiamiamoli genericamente geopolitici e non di assistenza nel senso stretto forse le aspettative sono sempre maggiori di quelle che poi sono le reali possibilità che avete con tutti i lavori che portate avanti non lo so non so se le aspettative sono maggiori diciamo che c'è c'è un problema che è molto semplice mantenere degli standard di assistenza oggi significa assistere un paziente scendere significa non assistere non esiste l'assistenza fatta a metà per cui la collaborazione tra gli operatori della sanità e chi a livello di direzione gestisce poi l'organizzazione della stessa è fondamentale ma l'obiettivo deve essere mantenere standard elevati della nostra assistenza il vicepresidente della giunta regionale con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente comunica che da Roma arriva l'ok allo stralcio del progetto sulla rete irrigua del Fucino come richiesto dalla regione Abruzzo con la delibera 498 dell'agosto scorso spiega Imprudente abbiamo voluto dare un segnale chiaro per lo sviluppo dell'area del Fucino e delle sue infrastrutture irrigue finalizzando le risorse esistenti per progetti utili e concreti senza rischiare di lasciare solo liberi dei sogni il nostro metodo vuole essere questo il rischio era infatti di vanificare lo stanziamento esistente pari a 50 milioni e mandare all'area l'intero progetto che ammonta quattro volte tanto vista l'impossibilità di realizzare l'intervento a copertura dell'intero territorio considerati anche ritardi accumulati nei di anni e la complessità degli iter autorizzativi di ordine ambientale procedurale elementi che avrebbero certamente comportato la perdita del finanziamento l'autorità di bacino meridionali ci ha dato ragione ha aggiunto Imprudente e ha preso atto della scelta della regione di indirizzare i 50 milioni di euro del masterplan a una parte determinante strategica per l'Abruzzo il completamento della rete irrigua a copertura di tutto il comprensorio fuciense e la riprogrammazione dell'economia di gara che ne deriveranno a beneficio della progettazione dell'intero intervento l'ascolto dei sindaci delle associazioni degli agricoltori di chi vive il territorio il raccordo con le strutture e gli organi tecnici e un lavoro fatto con pazienza e con raziocinio portano solo risultati positivi conclude il vice presidente che assicura una costante e continua attenzione per accelerare tutte le fasi che dovranno portare alla realizzazione di un'opera straordinariamente importante per il Fucino e per l'intera regione e stamattina anche in Abruzzo sono scese in piazza le magliette bianche cittadini che chiedono il risalamento delle aree più inquinate d'Italia i comitati le associazioni e movimenti che da Taranto a Gela dal Sulci e Scrottoni da anni combattono per le bonifiche hanno creato infatti una rete chiamata magliette bianche per la tutela dell'ambiente e della salute sabato 21 e domenica 22 dicembre sono stati scelti per promuovere 20-25 città di cui 23 siti nazionali di bonifica per l'Abruzzo è stato scelto piano d'orta nel sito nazionale di bonifica di Bossi perché pesantemente inquinata da piombo arsenico con scorie praticamente in mezzo alle case dopo lunghe vecessitudini ritardi e solo dopo plurimi interventi del forum H2O e della stazione ornitologica abruzzese ci sono state due ordinanze della provincia che nel 2015 e nel 2018 individuavano un Edison il responsabile che dovrà attuare le bonifiche purtroppo sono stati ritrovati rifiuti in particolare le cenere di Pirit che oggi in molti casi sono classificate dall'Arta come rifiuti speciali pericolosi in diverse aree anche esterne all'attuale perimetro del sito nazionale di bonifiche nel maggio 2017 dopo una segnalazione della SOA è partito l'iter di riperimetrazione del sito ma dopo due anni non è ancora pronto il decreto tra lungaggini burocratiche inaccettabili nel documento nazionale con le richieste dei comitati inviato a denti e istituzioni si spiega che le magliette bianche rappresentano cittadini che hanno a cuore la tutela della salute dell'ambiente in quanto vivono all'interno in prossimità di territori gravemente inquinanti classificati come SIN o SIR siti di interesse regionali per le bonifiche da effettuare o in cui gli standard di qualità ambientale non sono rispettati cittadini cittadini per cui chiedono a governo parlamento e regioni procedimenti amministrativi e penali rapidi ed efficaci con un cronoprogramma preciso e non derogabile soprattutto da ministero dell'ambiente con obiettivi annuali connessi alla ritribuzione dei dirigenti romani deve essere applicato rispetto del principio chi inquina paga affinché siano finanziate le bonifiche dalle aziende colpevoli con controlli serrati istituendo anche una procura specializzata dedicata ai fenomeni di inquinamento e un coordinamento interforze tra noi carabinieri forestali guardia di finanza polizia e guardia costiera per inchieste e controlli ed anche domenica 22 dicembre in più di 3000 piazze in Italia sarà possibile ricevere il cuore di cioccolato di fondazione Teleton per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare il cuore di cioccolato disponibile nella versione fondente al latte e al latte con granella di biscotto è un omaggio distribuito in tutte le province d'italia dai volontari di fondazione Teleton Will DM di Avis Anfas azione cattolica e unpli come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro quest'anno inoltre sarà possibile richiedere anche la confezione regalo da nuove cuoricini di cioccolato fondente distribuita nelle piazze con una donazione di 5 euro in Abruzzo saranno restiti i banchetti a L'Aquila Pescara Chieti e Teramo e in molti comuni delle rispettive province dove saranno distribuiti simbolici cuori di cioccolato grazie volontari comunque sul sito teleton.it sarà presente l'elenco dei punti di raccolta dove sarà possibile richiedere il prodotto e per coloro a chi non potranno recarsi nelle piazze ma vogliono comunque sostenere la ricerca è possibile richiedere il cuore di cioccolato direttamente sul sito internet di Fondazione Teleton nella sezione shop.teleton.it ed è stato inaugurato il terzo ponte sul fiume Saline realizzato dalla provincia di Pescara tra i comuni di Città Sant'Angelo e Montesilvano l'infrastruttura costata 5 milioni 800 mila euro porterà il nome di Filomena Delli Castelli insegnante eletta all'assemblea costituente del 1946 unica donna ad aver ricoperto il ruolo di sindaco di Montesilvano dal 1951 al 1955 e la cerimonia istituzionale ha partecipato il presidente della giunta Marco Marsilio si tratta di un'opera pubblica strategica e attesa da anni volta ad alleggerire e snellire il traffico tra Montesilvano e Silvi ha esordito il presidente Marco Marsilio era un'opera incadiata con diverse problematiche ma siamo riusciti nel giro di poco tempo a riperire oltre 3 milioni di euro per completare i lavori abbiamo fatto uno sforzo importante ma se non l'avessimo fatto serva Marsilio questo cantiere sarebbe diventato un altro monumento alle incompiute adesso lavoreremo per completare la direttrice tra Pescara Nord e Silvi e l'Abruzzo che vogliamo si tratta di un'opera monumentale diversa dalle altre due sia perché strallata sia perché dotata di una pista ciclopedonale che consentirà anche ai pedoni e ciclisti di passare da una sponda all'altra del fiume Saline e questa sarà l'ultima notizia quindi il giornale termina qui prima dei saluti noi come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antennaduitv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci a l'ultima notizia a l'ultima notizia Grazie.